cinturone belga anni 70 80 usato prima scelta conservato in ottime condizioni in tessuto di canvas canapa aiuta molto resistente materiale ben lavorato tutto bullonato attacchi metallici in ottone vediamo che ha un fermo di regolazione perché al suo interno un gancio un altro fermo per regolare la grandezza della circonferenza del cinturone affinché vada alla giusta misura di cui necessitiamo l'aggancio è semplicissimo questi fori servono anche per agganciare materiali e utensili dotati di apposito aggancio potrebbero essere taschine borracce foteli di coltello ecc molto solido e ben fatto la colorazione può variare a secondo dello stato l'usura infatti come vediamo su altri modelli su altri pezzi può essere più o meno colorata nero colore che nel tempo è andata via via perdendo per far uscire il materiale originale